L'annuncio di Marche Multiservizi di andare alla ricerca di un'altra sede per la realizzazione del digestore anaerobico, lasciando di fatto al palo Aset, rischia di trasformarsi in una caporetto anche per la giunta Seri. Questa piega, che ha preso la vicenda, porta a galla tutte le divergenze su questa pagina della vita pubblica cittadina, non solo tra opposizione e maggioranza, cosa ormai arcinota, ma è soprattutto tra i partner di governo, in primis il PD, che aveva fatto di questo punto programmatico un puntello per appoggiare il secondo mandato di Seri. Ma i nodi sono venuti subito al pettine, già in campagna elettorale, con smentite e controsmentite sul sito Bellocchio Falcineto. Ed ora, dopo questo ennesimo colpo di scena, siamo alla resa dei conti. Tra i due litiganti, però, c'è chi gode e soprattutto il comitato promotore del referendum. Noi cadiamoci alla fine di un incubo a questo punto, è una buona notizia per tutti i cittadini di Fano e in particolar modo per quelli di Bellocchio Falcineto, ovviamente, che erano direttamente interessati da questo tipo di impianto. Fino a prova contraria, avere una parola definitiva da parte del sindaco Seri e del presidente dell'Ase Traaginelli, che dica appunto che questo digestore, questo impianto che volevano costruire, termina qua questa vicenda, in maniera da tranquillizzare tutti i cittadini. Dopodiché spiegheranno anche perché hanno speso 80 mila Euro per i vari studi e se questi sono soldi veramente spesi con criteri oppure no. Oltre al PD, anche in comune faceva parte dell'ala pro di gestore e che ora invece parla di occasione persa e pericolo di scalata per l'azienda di casa. Se dovessero essere confermate, ovviamente ci sono motivi di preoccupazione per ovviamente il futuro dell'azienda di Aset, che merita invece di avere altre sicurezze. Ci sono motivi di amarezza perché si rischierebbe di perdere un intervento importante anche per la ricaduta di politiche ambientali per la nostra città e amarezza perché rappresenterebbe sicuramente l'esito dei ritardi colpevoli della politica fanese. C'è un investimento importante sulla nostra azienda, che è un'azienda pubblica, che vogliamo che rimanga pubblica e faremo in modo che questa dimensione così importante per la nostra comunità si mantenga anche con i giusti investimenti anche nei prossimi anni. Costi quello che costi e credo che questo è un messaggio che dentro e fuori Fano oggi più che mai debba passare con forza. Chi parla di ennesima dimostrazione di inadeguatezza e poca trasparenza è la Lega Fano, che ha visto sempre in questo progetto a due mani, con marche e molti servizi, un cavallo di troia per fagocitare a poco prezzo Aset. Da un lato abbiamo una mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini di Fano e specialmente quelli di Bellocchi. Da un lato c'è una mancanza di trasparenza nei confronti di Aset, nei confronti di marche e molti servizi, nei confronti del PD e anche nella lista di mascarine. Questa mancanza di trasparenza interna è testimoniata anche dalla bocciatura dell'atto presentato dalla lista di seri in consiglio dove si chiedeva di fare delle verifiche preliminari, atto che è stato poi bocciato, non si capisce perché. Quindi spenderemo un'altra volta 40.000 euro per farci dire che il sito migliore è Bellocchi. In tutta questa storia ci rimettono i cittadini fanesi che si trovano ad aver speso decine di migliaia di euro per non arrivare a nulla. Ci rimette la fiducia dei cittadini fanesi che era stata affidata a delle persone che hanno detto tutto il contrario di tutto.